allora ragazzi nuova zona sul lago maggiore rosciugato oggi siamo a monvalle ragazzi guardate che distesa che è venuta giù qua guardate che roba guardate che roba qua c'è il campeggio guardate che roba guardate che spiaggia che ne è uscita fuori ragazzi guardate che roba allora proseguiamo fino in fondo di là dai andiamo su fino al lago mamma mia pazzesco ragazzi guardate che roba fa veramente paura ragazzi guardate che roba guardate quanto siamo distanti dalla dalla riva del campeggio guardate che cosa siamo arrivati all'acqua guarda giù la tra un po' si riesce ad arrivare giù alla bozza a piedi o sta arrivati ciao lago quanto ti sei ritirato mamma mia guardate quanto si è ritirato ma c'è una barca ormai sarà sicuramente arenata la ci sono i sassi ci sono sui i corborani quindi vuol dire che la riesce ad arrivare anche a piedi se si vede il sasso perché non è alta per niente l'acqua nooo guardate qua oh non è possibile mamma mia vediamo se riusciamo ad andare avanti qua è pieno guardate quanto continuo guardate quanti lo volete un po' lo porto a casa mamma mia guarda lì là è dove sono andato io l'altra volta dove c'è quel cassinotto là nel bosco là nel video precedente che ho fatto alla bozza pensate tra un po' si può arrivare a piedi mamma guarda qua questa la voglio io guardate che esplò io voglio una barchetta chi è che c'è una barchetta così da da regalarmi ragazzi guarda questa ma ah forse questa è proprio arenata o cos'è che c'è scritto ma da dove entra Grace io andrei anche avanti qua eh andrei anche avanti lì però ho paura a sprofondare come un pazzo i geni combino di casini che mi sprofondo e mi faccio male poi c'è già la mia caviglia che mi fa ancora male dopo un anno mamma mia che roba c'è giù là c'è la bozza ragazzi c'è la bozza dove esce praticamente il fiume Bardello che arriva dal lago di Varese cioè qua se si potrebbe andare avanti qua a piedi cinque minuti attraverso arrivo giù là mamma mia dai andiamo giù faccio due foto questa barchetta qua e vado giù in fondo là allora ragazzi ci siamo spostati un po' più avanti guarda prima ero là dove c'era quella barca là questa è sempre la spiaggetta qua c'è un un sasso nel lago intanto qua è bassissimo la bolla si piega ragazzi quindi devo dire che l'acqua non è tanto alta lì abbiamo il campeggio lì di Monvalle ci sono sempre in giro un sacco di quelle cose lì che non capisco cosa siano sembrano quadrate so che non ho i stivali ce li ho in macchina no voglio andare a prendere stivali e poi tornare giù lì c'è un altro ceppo di legno ragazzi mamma mia che roba speriamo che piova porca miseria ragazzi dovrebbe piovere qui un'altra barca guardatela un'altra barca non ci posso credere questa qui la prendo adesso vengo giù guardate di sta crescendo l'erba adesso ragazzi porca miseria vengo giù con il mio pandino attacco quella barca qua la porto via la porto via la sistemo tutta c'è ancora a casa i materiali quando facevo l'aereografia la disegno tutta faccio una barca personalizzata walking trek se non riesco a trovarne una in giro ma sarà difficile trovarne una guardate questa ormai sarà arenata qua eh ormai sarà arenata qua allora vediamo da andare lì oh arriva l'elicottero te pareva ecco è tornato indietro l'elicottero di prima faccio il video io e arriva l'elicottero oh io vado fin dove riesco ad andare quando comincia a sprofondare tanto torno indietro che era una pianta secondo me per forza eh no ma io andrei la guarda perché lascio sempre gli stivali in macchina porca miseria si profonda qua questo è un ciocco di legno qui siamo proprio nella melma più assoluta eh mi sa che qua ragazzi ah lì non si può attraversare perché c'è il monvallina ok lì c'è un pezzo di una lattina che luccica guardate che roba ragazzi fuori di testa lì dove l'ho andato io l'altra volta lì su quella spiaggetta lì che avevo fatto la ho girato un video con il magnete te lo lascio qua in alto nelle schede se non l'hai visto non l'abbiamo trovato niente se che devo dire niente niente fine guardate che roba questa è il monvallina che scende là c'è il campeggio guardate che spianata ragazzi guardate che roba allora ragazzi io nel frattempo vi saluto anche per questo video è tutto qua nella spiaggia desertica sul lago maggiore a monvalle fa paura ragazzi niente io vi risaluto un'altra volta mi raccomando lasciate un bellissimo like al mio video iscrivetevi al canale e condividete il video con i vostri amici cliccate la campanella delle notifiche guardate qui sotto nell'info box che trovate un po' di link che vi lascio che portano ai miei social instagram tik tok e tutte quelle cose lì trovate anche dei link che li portano ad amazon se volete aiutare il canale a crescere basta io vi ringrazio ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao